Situazione sempre più critica nella città di Agropoli per quanto riguarda la situazione contagi. L'ASL, Dipartimento di Prevenzione, ha comunicato di aver riscontrato nelle ultime 24 ore 19 casi di positività al covid-19. Nel contempo si registrano anche due guarigioni. Il totale di positivi attuali sale quindi a 86. La maggior parte dei contagi sono da riferirsi all'ambito scolastico. Numerosi sono i bambini della scuola Caffarelli di località Moio che hanno contratto il virus. Casi positivi tradiscenti sono stati riscontrati anche alla scuola Gino Landolfi ma la situazione rispetto alla Caffarelli sembra essere più tranquilla. Intanto sui social monta la rabbia delle famiglie che puntano il dito verso l'amministrazione comunale riguardo ad una posizione che non arriva. Ad Agropoli si sta vivendo una situazione molto preoccupante e chi ci rappresenta è assente dal prendere delle decisioni, scrive un cittadino sui social. In tanti chiedono la chiusura generale degli istituti scolastici e il ritorno alla DAD per contenere il contagio ma anche di bloccare in città possibili situazioni che porterebbero ad assembramenti inevitabili. La salute della cittadinanza agropolese ha la priorità su tutto. Fermiamoci ora per sperare in un Natale sereno per tutti, scrive una cittadina su Facebook.